Grazie per essere venuta, una domanda per il nostro WebTV. L'incontro di oggi è Internet, i nostri diritti. Anche l'anonimato è un diritto da proteggere online? Assolutamente sì, è un diritto, è previsto dalla dichiarazione dei diritti in Internet. È fondamentale soprattutto tenendo conto del fatto che moltissimi paesi nel mondo non sono democratici e quindi è un diritto per proteggere la libertà di espressione. Ovviamente l'anonimato può sempre essere scoperto, sappiamo benissimo che nel mondo digitale se si vuole andare a scoprire chi è la persona anonima si può, però deve essere un diritto essere protetti tranne quando si commettono atti illeciti e quindi c'è l'autorità giudiziaria competente che ha diritto di andare a scoprire chi è la persona anonima. Quindi per gli illeciti quando si parla di terrorismo o di assalti alle persone cioè di comportamenti aggressivi, violenti o assolutamente inappropriati ma dal punto di vista legale quindi deve esserci proprio un'autorità giudiziaria competente che lo decreta non può essere chiunque a chiedere che una persona anonima non sia più anonima. Grazie a tutti.